Monica, noi ci eravamo già visti qualche mese fa in primavera per una chiacchierata preparatoria. Oggi un'assemblea nazionale per parlare di TTIP, ma veramente si cerca di creare un paese sudamericano nel cuore dell'Europa? Sì, certamente si cerca di liberalizzare il più possibile non soltanto i dazi e le tariffe, che sarebbe già una cosa che si potrebbe fare a bocce ferme all'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma si cerca di asfaltare tutto quanto il sistema di garanzie, di tutela, di sicurezza che l'Europa comunque con i suoi limiti si è data in questi anni. I Paesi membri in realtà stanno costruendo e stanno anche cercando tra loro di armonizzare con molta fatica. E questo purtroppo per le ragioni dei profitti di pochi, cosa che chiaramente ci fa molto preoccupare e indignare. È un trattato che investe direttamente la vita delle persone perché riguarda sostanzialmente l'abbattimento delle barriere non tariffarie tra Stati Uniti e Unione Europea. Per barriere non tariffarie dobbiamo chiarirci sul punto, sono esattamente tutte le normative ambientali del lavoro, sociali, che sostanzialmente impediscono la piena libertà di investimento dei grandi capitali finanziari. Dentro questo quadro ovviamente per i servizi pubblici vorrebbe dire la totale liberalizzazione anche perché i negoziati prevedono che ogni normativa messa in campo da un'autorità pubblica per impedire o per ridurre la possibilità di investimento dei grandi capitali finanziari verrebbe immediatamente impugnata da un tribunale speciale che agisce secondo la libera concorrenza. Siamo molto preoccupati dal fatto che appunto le legislazioni degli stati nazionali possano essere superate di fatto dalle scelte delle multinazionali che potranno impugnare qualsiasi norma vada contro la liberalizzazione estrema che viene costruita in tutti i settori che riguardano questo trattato, tra i quali peraltro potrà entrare anche l'istruzione come tutti i servizi pubblici che rischia appunto di subire un forte processo di privatizzazione e di mercificazione proprio a causa appunto delle scelte del TTIP. In effetti non è il primo tentativo di liberalizzazione totale perché il movimento no global è nato su questo, quando l'accordo multilaterale per gli investimenti venne tentato nel silenzio generale, l'idea anche allora era mercificare tutto il mercificabile, togliere agli stati la possibilità di intervenire contro i disastri ambientali, contro la sofisticazione del cibo, liberalizzare tutto al più basso livello, per esempio il lavoro. Allora ci fu una reazione molto forte e la clandestinità di questo accordo venne smascherata e di fatto fu un elemento fondamentale per far nascere il movimento no global o alter mondialista. Se uno guarda lo sblocca Italia, cosiddetto sblocca Italia, in realtà è lo sfascia Italia che è passato nei giorni scorsi, vede che ci stanno proprio queste cose qui. Si può appunto sfasciare l'Italia senza dover pagare più niente, sono state sbloccate tutte le limitazioni al disastro ambientale e così via, quindi mi pare che appunto Renzi il TTIP lo sta già facendo. Siamo in connessione con tutta una serie di movimenti che hanno inciso pesantemente sulla storia politica degli ultimi dieci anni, come ad esempio il forum dei movimenti per l'acqua e tutta una serie di realtà che sulle questioni sociali si sono impattate. Si è capito che un trattato commerciale può togliere completamente ogni potere di democrazia, di rappresentanza ai cittadini dei singoli paesi. Grazie a tutti!